Ispersire i capelli con un solo ingrediente naturale. Oltre a dare corpo ai capelli sottili, l'olio di cocco aiuta a nutrirli, a ripararli al tempo stesso do una brillantezza senza renderli grassi. 6 consigli per rassodare la pelle Quanto è importante ispersire i capelli? I capelli sottili sono la conseguenza di un graduale debilitazione a causa dello stress, dell'inquinamento ambientale e dell'uso di prodotti chimici aggressivi. A volte questo problema è presente sin dalla nascita. In altri casi invece, c'è chi ne soffre per non curanza, squilibri ormonali ed altri fattori che alterano in modo diretto il cuoio capelluto e le giocche di capelli. Questo non solo porta la chioma a perdere volume, ma induce anche ad un'eccessiva perdita di capelli, ad estrema secchezza e sensibilità nel cuoio capelluto. Per questo motivo, è importante favorire la nutrizione del capello con un uso continuo di prodotti rivitalizzanti, che ne aumentano la forza e la lucentezza. A seguire vogliamo consigliarvi un ingrediente 100% naturale, che aiuta a ispersire i capelli senza causare effetti indesiderati. Un ingrediente naturale per ispersire i capelli sottili per recuperare la forza ed il volume dei capelli sottili, oggi vi vogliamo consigliare un ingrediente che fa parte di centinaia di trattamenti cosmetici alternativi, l'olio di cocco biologico. Questo prodotto naturale si ottiene dalla polpa del cocco. È composto da acidi grassi di catena media e potenti antiossidanti che funzionano meglio di qualsiasi altro prodotto artificiale. Non contiene siliconi, è privo di alcol e i suoi composti attivi penetrano con facilità nelle fibre dei capelli danneggiati stimolandone la riparazione. Molti lo utilizzano come alternativa ai convenzionali balsami, dato che la sua consistenza ne facilita l'applicazione e lascia una morbida sensazione sulla chioma, senza alterare la normale produzione di grasso. Possiede anche una forte capacità idratante, che riduce la presenza di cellule morte, di doppie punte ed altri problemi associati all'eccesso di secchezza. Dato il suo elevato contenuto di nutrienti essenziali, rafforza le radici dei capelli, ne evita la caduta e ne promuove la crescita naturale e sana. Presenta anche sostanze antibatteriche ed antimicotiche che inibiscono la crescita dei funghi e degli altri microrganismi relazionati con la forfora. Può combattere pidocchi e lendini, prevenire i capelli bianchi prematuri e ridurre la debolezza e l'aspetto opaco dei capelli. Come preparare l'olio di cocco per rispessire i capelli. Anche se è possibile comprare l'olio di cocco al supermercato nelle sue diverse presentazioni, conviene prepararlo in casa per essere sicuri che sia biologico e privo di processi di raffinazione. È comune trovare versioni economiche già pronte. La maggior parte però, non possiede le proprietà tipiche del prodotto naturale. La ricetta che condividiamo a seguire è molto facile da preparare e, oltre ad essere utile per rendere più spessi i capelli, può essere utilizzato anche per la pelle e la salute. Di cosa avete bisogno? Due noci di cocco 1 grattugia 1 colino In tessuto istruzioni Realizzate dei buchi nelle noci di cocco ed estraete l'acqua che vi è all'interno. Poi, aprite le noci di cocco, estraete la polpa e grattugiatela fino ad ottenere un impasto sottile. Mettete la polpa in un colino in tessuto e spremete in modo che esca tutto il latte. Dopo aver separato tutto il latte, aggiungete l'acqua di cocco alla polpa ed aspettate che la assorba prima di spremere di nuovo. Mettete il latte risultante in una padella, fate cuocere a fuoco lento e mescolate lentamente con un cucchiaio di legno. Per via del calore, il latte e l'olio si separeranno, potete usare un colino per separarli. Versate l'olio in un recipiente di vetro e procedete con l'utilizzo. Come usare l'olio di cocco per rispessire i capelli Per dare volume ai capelli con questo prodotto naturale, bisogna usarlo minimo tre volte alla settimana. Istruzioni Prendete un paio di cucchiai di olio di cocco e riscaldatelo al microonde. Quando l'olio avrà raggiunto una temperatura sopportabile, sfregatelo dalla metà dei capelli fino alle punte con un delicato massaggio. Stendete una piccola quantità di prodotto sul cuoio capelluto e massaggiate con i polpastrelli delle dita, in modo da farlo assorbire bene. Coprite la testa con una cuffia e lasciate agire, minimo, 40 minuti. Trascorso questo tempo, sciacquate con abbondante acqua fredda, pettinate i capelli e lasciate asciugare all'aria. Seguendo questo semplice trattamento per diverse settimane, potrete ristrutturare i capelli. Ne aumenterete il volume e la resistenza, contrastando le tossine che li debilitano. Sentirete subito la vostra chioma più setosa, brillante e priva di nodi che rendono difficile la pettinatura.